Quindi differenziati. Chiaro le date del 24 ottobre e del 24 novembre, quindi la maggior parte dei codici intorno alle regalette di novembre, solo un codice, quello che tipo, da settembre, quindi i codici di settembre come punto di riferimento, allora tra l'altro, tra l'altro, dei casi di voti. Il personaggio sempre dice che avvenne, in greco artico, come in greco artico, Stinophoros era un vino di un palazzo dei filologi che avevano ormai deciso per la data del 24 ottobre, ma si vede nella traduzione sempre fatta di Castiglione, sembrante di vendere una ricompitizione, Stinophoros era un vino di un palazzo dei filologi che avevano ormai deciso per la data del 24 ottobre, e lui dice che c'era di Navia, si stava facendo un vino che mostrano i viti di prima regina, cioè, per il resto, Greta e Slepa mi ha scritto un bellissimo articolo, già, in tempi non sospetti, in cui raccoglieva tutta la documentazione, e mi ha detto che Gianlusini nel 600 aveva votato con Maria Lugero, cioè, era di Navia, questa iscrizione, diciamo, è, credo, il dennesima colpa, e lo trovavo più forte, e la traduzione di Navia. Bene. Altre domande? No, no. Bene, allora, c'è una...